Ciao a tutti e bentornati con una volta su Indie Gameplay Ita Oggi siamo su Ranch Simulator Un gioco che deve uscire Lo sto giocando prima del rilascio Prima della fine dell'embargo Il gioco sembra essere già in italiano Non l'ho ancora provato perché ho deciso di provarlo insieme a voi Perché so che è un gioco che molti di voi attendono Da appassionati di vari simulatori quali siete E quindi ho detto Lo provo subito Così posso dare magari le mie impressioni Immediate Si va alla carriazione del personaggio Ora vediamo se l'italiano merita O meno Maschio o femmina Si può fare anche donna Il personaggio è molto Questo qua tra l'altro potrebbe anche assomigliarmi un po' Vediamo Generale, colore della pelle, rugosità della pelle Possiamo farlo più vecchio o più giovane Ma leggermente Io metterei così Capelli incolti Che non cambia niente ma va bene Barba incolta Sì un pelino cambia Ma niente di che Peli Vabbè Capelli Barba barbetta Vediamo Questo ero io una volta No vediamo se riusciamo a fare No così veramente troppo Effetto lampadina Facciamo così Dai E muove anche la testa Bello No il movimento mi piace molto Va bene Mettiamo Scusa Scusa poi tirare sulla testa Un po' tipo barbiere No Colore Colore degli occhi E il marone non c'è Ma vabbè Dai teniamolo così va Chi se ne frega Salva Ci facciamo così va Chiudi Confermo Sì Dai lo proviamo E vediamo che cos'è Ok nuova partita Personalizza No 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 L'ha ben creato Ben creato Scelgo lui Scelgo te E quindi Ok Per non perderti Segna la posizione Sulla mappa del menu di gioco Addirittura Belli pulcini qua Che seguono Ok Spostati con Vast Guardati intorno col mouse Corri con Shift Accovacciati con C Salta con spazio E V Per cambiare visuale Ok Ah sta ancora caricando Mi sa che ho avviato il gioco più volte Ok Ok Enter per continuare Ok Segui con la blu E leggi la lettera Vediamo un po' Qua abbiamo la La mappa Boh Segui con la blu E leggi la lettera Eccola là Allora Il mondo di gioco Sembra essere un pochino Quello di Anche l'Humberjack Dynasty O Farmer Dynasty Cioè graficamente Non normale Nella media Insomma Niente di Spaventoso Vediamo la lettera E vediamo anche Il livello di traduzione Se stai leggendo Questa lettera Significa che Hai accettato di rispettare Le mie ultime volontà E ti trovi nel nostro Arance di famiglia È trascurato Perché non ho avuto Il tempo L'opportunità Di occuparmene Entra in casa Ho lasciato Alcune cose in soffita Che ti serviranno Mi figlio di te Con affetto Nonno Tradotto bene Devo dire Fino a questo momento Allora Apriamo nel registro Con Jay Accendi la radio sul muro Trova la tenda Ispeziona la casa Accendi la radio sul muro Trova la tenda Ok Vediamo un po' Sì Va bene Chiudi pure Fastidiosa La chiusura Con Ok La tenda Treni per mutuer Per salvare il gioco O premier Per dormire E salvare Ok Puoi dormire Fino al mattino E salvare i tuoi progressi In ogni momento Perfetto Vediamo un po' La casa La casa un po' È Sullo stile grafica Del disagio Poi vediamo un po' Come è la casa del nonno Due porte Porta finta Qua non si entra Abbiamo fatto Il giro così Ma non è di qua Che dobbiamo andare Dobbiamo aprire questa porta qua È proprio tutto un devasto Accendi la radio In tutto questo Uno va e accende la radio Va bene Ispezione Secondo piano della casa Trova il baul Del nonno in soffitta Va bene La scala è lì Reggerà Sembrano Sembra un po' così Ma Vabbè Si farà Eventualmente Una Ristrutturazione Sì qua Manca il pavimento Invia dei matti Al numero zero Va bene Vediamo un po' Ok Per distruggere Rimuovere gli oggetti Seleziona la modalità Di emulazione Nel menu circolare Tenendo un tasto tab Ok Demolisci Ah Posso Rimuovere la spazzatura Posso eliminare Anche le pareti No 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 Tieni Questa modalità qua Che Allora si sale su Eccola là La cassa Fa qualche problemino Devo stare magari un po' Più accovacciato E arrivare là È un modo per Farmi capire come funziona il gioco Apriamo Apriamo il baule Una pistola Va bene Ripara la carrozzeria Con i pezzi di ricambio Ah Allora Una pistola Dei soldi 500 dollari E un foglio Leggiamo Prendi questo revolver Nella foresta Ci sono tanti animali selvatici Che potrebbero Che potrebbero darti noie Ti ho lasciato dei soldi Delle munizioni Un'altra cosa Ti servirà un'auto Nel garage all'entrata Della rencia C'è un vecchio side by side Mi ricordavo Forse un side by side Un frigorifero Ma vediamo Usa i pezzi di ricambio Che trovi qui Per aggiustarlo Buona fortuna Ma dove sono i pezzi di ricambio Ah di sotto Ok Qua si vuola giù Sì Ma non si fa male Giustamente Non è che siamo Se potesse magari Piantarla un secondo Grazie La musica del nonno È molto bella Ma Adesso Dobbiamo lavorare Ecco è chiuso Ma sapete che È Ha quella Grezzezza Però Secondo me Non è male Pezzi di ricambio Prendo Ah ma devo portarli Che spettacolo Anche lì È quel seggiolino lì L'auto è lì dentro No Ok Vediamo un po' Vediamo un po' Nella rimessa Qua c'è un portatoronchi Vediamo E per aprire la porta Vediamo un po' Ah è il camioncino Ok Posso montarlo qua Installa lì Che figata Dai installa anche la seconda La prendo col tasto del mouse E la posiziono col tasto E Ok Beh fortunatamente mi indica dove andare Quindi Vado abbastanza tanto in questo Tranquillo Questo è un parabufali Cioè almeno mi viene in mente Solo quello Come Come tipo di oggetto Un'altra gomma Prendila Prendila Ok Dai magari Rimettiamo a posto anche questo Poi se c'è anche Il carburante Da fuori di matto C'è qualcosa anche qui Eccola lì Un'altra gomma E le gomme Le abbiamo montate Poi Proseguiamo Con il seggiolino Qui Ok C'è qualcosa anche lì dentro Di là Questo ma questo Ah è lì Lì sopra Ok Allora il seggiolino Ne montiamo uno Ok mi serve anche l'altro Però devo andare a vedere Che cosa c'è qua Che si può prendere Che cos'è Il serbatoio Il serbatoio del carburante Ah qua sotto Allora mi sa che i miei desideri Si avverano Con il tasto E Ho premuto il mouse Manca un pezzo ancora Che dovrebbe essere L'altro seggiolino Il motore Sarà già presente Oh un foglio Se sta leggendo questa Sì è quello di prima Sono un babbano L'avevo già letto prima Ma non è male Cioè La mappa è questa Mi indica anche dove sono girato Quindi Concessionario Stazione di servizio Emporio Ferramenta Ok Perché poi dovremmo Erigere il nostro Ranch E come dice la descrizione Lunghissima del gioco Che praticamente Probabilmente l'hanno messa Come parte Sbagliata del titolo Perché dice Gioco, non di survival Gioco, di sandbox Di costruzione Tutto nel titolo Quindi Tanica Prendo la tanica Prendi l'oggetto Tieni premuto Per posizionarlo E poi Per confermare Ok Quindi Spettacolo Lo posso mettere qui E premo col sinistro Lo confermo E rimane fermo lì Perfetto Stazione di servizio Raggiunta Raggiungi la stazione di servizio Quindi ok Dai andiamo Tieni premuto R per adrezzare l'auto Utile anche questa Andiamo A con B Cambio la visuale Prima persona F per mettere in moto Spazio per il freno a mano Ma non c'è Mi rimetto in terza persona Allora Gas Oil Di là Vediamo Ma direi che va abbastanza Vedete in basso a destra C'è la quantità di carburante Ah il freno a mano Vedete che Uh Va tenuto premuto L Accendiamo i file Che non si sa mai Siamo in early access version 0.33 Come vedete in alto a sinistra Lo vedo adesso In alto Vedete che la bussola È l'ora È quasi l'una Tipo mail Ci fermiamo qui Stazione di servizio Allora Rimuovi Ok Fammi scendere Allora Vediamo un po' Prendo Che spettacolo È come Gold Rush E per inserire E poi Premi E per Iniziare a fare il pieno Che spettacolo Mi sta scalando i soldi Ok Finito Prendo Metto via Perfetto Tanica Tanica Ah devo impiegare anche la Tanica Scusate A parte qua che gioca Salta la corda Al distributore Però Vai Mi scala i soldi In automatico Quindi non c'è da andare a pagare Ah qua si vede anche la quantità Ok Fammela mettere via Perfetto Parla col venditore D'auto Ok qua è chiuso C'è Ah potenziale Come gioco Assolutamente Ok fammi accendere il motore Adesso abbiamo fatto il pieno Pienozzo Quindi Non vedo nessuno L'ambientazione è carina Cioè graficamente Se un gioco Ha da offrire A me Sta benissimo Questa grafica Senza dubbio Ecco lì Magari D'avrà preso un po' Meno funky Qua vendono auto Quindi Vediamo un po' Qua c'è la fermata Il bus Spengo E scendo Parlo col venditore Sembrava fosse Forse deserto Ma in realtà Bella quest'auto Lì c'è l'impiegata Salve Buongiorno Buongiorno Qua che cosa c'è Mi dica Ti diamo il benvenuto Qui puoi acquistare O personalizzare un'auto Per tutti i nostri nuovi clienti Installiamo le torri radio Nel loro veicoli A quattro ruote A solo i 10 dollari Ti basterà parcheggiare Nell'autofficina Che si trova dietro A questo edificio Per ricevere il lettore radio Se vuoi acquistare un veicolo Usa il computer davanti a me Commessa Prima di andare Un commesso Che differenza c'è tra le auto Tutte le auto Hanno caratteristiche Tecniche Capacità di carico diverse Guardare sul computer Per maggiori dettagli Guarda sul computer Per maggiori dettagli Usa questo computer Per acquistare i veicoli Airare Locale Prima di soggiornarvi Allora Ah questo computer qui Ah senso Ok vediamo Ok questa è una È 200 dollari Ma ce l'abbiamo già Il pick up Vedere che è 2003 Bilancio familiare Ok questa è una berlina Che non ha carico Questo è un SUV Questo è un side by side Due maiali Va bene No 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 Non acquisto auto Grazie Andiamo a installare La radio Dai Che è fondamentale Su qua Perché Perché almeno Vedete che c'è il vano Il vano in mezzo È lì libero Mi metterà la radio Sarà così dettagliato Ah posso cambiare il colore Beh lo facciamo arancione Colore indie Indie Molto saturato Un po' meno Forse Ok luminosità Bello luminoso Così Accessori Radio Radio Si Ah 60 perché ho cambiato il colore Va bene Migliore dai A posto Grazie Bello che si apre anche il sistema Cioè io vi faccio vedere cose che magari possono sembrare cavolate ma Quella cosa lì che si è aperta La seranda in quel modo È È curato però Mo Andiamo A parlare con la venditrice Dell'emporio Dell'emporio Che è di là Quindi Vediamo se Funziona un po' come My Summer Car Dove possiamo ritagliare Tagliare la strada Mamma mia ragazzi Che rischio Dai andiamo di qua Seguiamo la strada di qua E E tagliamo Giusto anche per provare a rompere il gioco Ma non che io lo voglia Perché Io auguro il meglio a questo gioco E se è un gioco fatto bene Mi ci perderò Le ore Però Ok benzina ne beve però Stiamo già Stiamo già consumando Calcolando anche Che è un early access Insomma Diamo Diamo un'occhiata Ma secondo me è fatto bene Eccolo là L'emporio Chissà che cosa si potrà comprare All'emporio Vediamo un po' Ok Salve Doh Non ci sono i danni Scusi Ma Vorrei parcheggiare così Non ci sono neanche altre auto Che vanno per la strada Quindi Ok così Siamo più Facili di andare via È rimasta accesa la luce Ma va bene Uh le ore Mi fanno impazzire Ste cose Salve Lei che guarda il telefono Tiriamo un benvenuto Per fare un acquisto Usa il terminale Nella stanza qui accanto Gli articoli acquistati Appariranno nell'area Nella mia sinistra Mentre il bestiame Nella zona qui fuori Per maggiori informazioni Sul bestiame Controlla il glossario Per vendere gli oggetti Posizionano lì Nell'area Nella mia sinistra Conferma la vendita Usando il terminale Perfetto Quindi Il terminale è questo Ah interessante Perché Qua vendiamo Qua si può comprare roba E poi La dobbiamo andare A prendere Di là Ok Accetta Allora Devo prendere Piedi di porco Martello Cestino delle uova Due polli Allora quindi Due polli Anche i colori È il gallo o no? Due polli Uno Due Poi Due polli Cestino delle uova Martello Piedi di porco Allora Piedi di porco Accetta Martello Cestino delle uova Due polli Due polli Acquista Grazie per l'acquisto Cosa manca? Ok Vabbè Niente Adesso Fammi prendere questo Che gli andiamo Mi sa che tra poco Chiude Quindi Devo darmi una mossa Allora Tac Bella Questa scelta qua Che posiziona È un Veramente Ok Qua c'è gli ortuti addosso Questo è Il disco Ho preso anche un disco Cosa che manca ancora? Per usare No Scusate Pollo preso all'esterno Ok Dobbiamo prendere il pollo Vedete qua È così Un po' da sistemare Il fatto che appena uscite Però ci sta perché l'effetto Avete mai preso una gallina Io da piccolo Però sicuramente Non sta lì ferma Allora Non si prende così Per le ali Povera Povero pollo Vabbè Spero che tu possa produrmi Tante uova Andiamo Andiamo Vediamo un po' la stradina Qual è la strada più comoda Questa qua Accendo il motore Andiamo Do Il gioco Almeno ha la scadenza Dell'imbaraco Il 25 Quindi vediamo se riusciamo A vederlo il 25 Ma voi Ma del sicuro Se questo video vi piace Ci andiamo in live La sera Del giorno stesso Andando Portandolo Un pochino avanti Però si muovono Cioè ha delle finestre Cioè secondo me Uh Sembrava un corpo Le potenzialità ce le ha Cioè non mi sembra Così a prima vista Un gioco buttato lì Giusto per Per fare due soldi E questo per me È importante Vediamo Ho preso la strada Sì direi che Possiamo andare di qua Poi che arrivi il traffico Arrivino Delle cose un po' più difficili Da fare E non Può solo che farmi piacere E lì abbiamo Vabbè Quel camion lì Che Non si capisce poi Dove è la nostra proprietà Ma credo sia tutto qua E si potrà anche sistemare La casa Perché comunque Tira fuori i polli Prendo il pollo E li metto Nel frigo No Dove è che li metto i polli Scusami A di là Ok Vesta il maggiore Nel punto indicato Ma Ma scusami Dove è che sono le 19 Ma li devo mollare Di così i polli Scusa Davanti a casa Non c'è un Un pollaio Adesso aspetta che Rimetto il pollo Un secondo qui Prendo i cereali Ok Versa i cereali Nel punto indicato Va bene Lo versiamo lì Quindi le galline Le lasciamo girare così Davanti Ecco Ma lo verso Versa il Il mangime Il punto indicato Un metro Amici Metterlo qua Ma Secondo me È sbagliato Secondo me C'è qualcosa Che devo fare Qua dentro Le devo mettere Qua dentro Da qualche parte È lì È una mangiatoria Però Non lo so Adesso Vabbè Prima di tutto Andiamo a dormire Che Che magari Uh Mi scusi Ma sembra una mangiatoria Vabbè Cereali trovati Adesso andiamo a dormire Famolo buttare lì Dormiamo in tenda Dormi E salva la partita Poi Premi space Per alzarti Vabbè Cerchiamo di capire Dove mettere Il mangime Ah Tieni premuto E per avversare la terra Ok Ok Trova il secchio E il serbatoio idrico Quindi Il secchio È qui dentro E questo è il serbatoio Di secchio Secchio Ok Serbatoio idrico Installato nel range Eh Dove lo installo io Il serbatoio Idrico Qui Perché poi Prendo il secchio E per installare Ok Ah L'ho riempito Ok Ok Tagliare Erebbe trovato Ma i polli Sono rimasti lì Però Il tagliare Ebre si trova In qualche parte Nel range Ok Si sta facendo Si sta facendo molto interessante Io ve lo dico Perché Che figata Vediamo un po' Cosa vuol dire La drizza Ah ok Questa è una genialata Per risolvere Tanti problemi Metti Metti moto Questa è la radio Tirare il freno a mano Ah Sta tagliando l'erba Che spettacolo Rimuovi tutti gli ostacoli del cantiere Alberi abbattuti Ah Guarda Guarda lì Ah Ma va Ma dai Aspetta eh Adesso Mi è rimasto acceso Spegni Si ma si spegne in automatico Allora Prendiamo Con questo La pistola No Costruisci Vediamo un po' Costruisci Tiene venuto Scegliere l'edificio Guardate Pollaio piccolo Pollaio premium Pollaio medio Che spettacolo Come si fa Distrugge No Dovrebbe essere Distruggi Pardon Scusami Vorrei Mollare questo E fare Demolisci No Ma non me li abbatti Con l'accetta Pistola Bella l'animazione Ma questo Non toglie Che io voglio Vedere Dove cacchio È Ah Premiere Per tagliare Albero Ok Lo fa da solo Ok Lo fa anche In tempo Abbastanza veloce Ok Erba tagliata Per tagliare Per tagliare L'erba Ah Guarda qua Per prendere Uh Ok Taglia l'erba Accendi Perché il pollaio Lo dovremmo mettere qui Mi immagino Ok 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 Taglia tutto Bella lì Perfetto Usa L'opzione Costruisci E fai Pollaio Pollaio piccolo Ah qua mi dice Che posso fare Tutti gli sfrotto In cui posso fare No Voglio fare il pollaio piccolo Tiene il premutore Per costruire Ok Primo pollaio Tiene il premutore Per costruire Vabbè E poi Secondo piano demolito Primo piano demolito Ok Quindi Io ho sempre I polli qua E E anche il cestino Per le uova Insomma Stiamo iniziando Ok Non lascia molta scelta Su cosa costruire Però In questo momento Ora Il gioco mi sta Facendo andare A demolire Inutile riparare questa casa Demoliamola Ricostruiamola da zero Ora ragazzi Io Vi dico La mia Mi piace E quindi Se vi va Stasera Accendiamo live Se la Insomma Lo Lo volete vedere ancora In caso contrario No Insomma Fatemi sapere ragazzi Anche quello che pensate Del gioco E alla prossima E ciao già Grazie a tutti Grazie a tutti